Come sapete dal 13 giugno sono stato nominato sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria. È un tema che sta molto a cuore al Movimento 5 Stelle perché è nato tutto da lì. Il secondo V-Day nasceva con le proposte di legge e di iniziativa popolare per l'abolizione della legge Gasparri, per l'abolizione dell'ordine dei giornalisti e per l'abolizione del finanziamento pubblico ai giornali. Ecco, oggi ci troviamo nelle condizioni di poter mettere le mani dentro questa materia molto complessa che è il sostegno all'editoria. E il primo passo, le prime cose che ho fatto in questi giorni è incontrare e proseguirà anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, tutti i soggetti interessati che si interfacciano con questo Dipartimento. Ho voluto però iniziare dando un segnale politico importante. Non ho iniziato con i grandi editori o con le grandi associazioni, ma con i giornalisti. Le prime persone che ho incontrato sono quelli del comitato di redazione di Aska News, un'agenzia di stampa che in questo momento per delle scelte fatte dal precedente governo si trova con tutti i propri lavoratori in cassa integrazione al 50%. E questo è un tavolo di crisi, chiamiamolo crisi aziendale, che questo Dipartimento si trova a gestire. E il giorno dopo ho incontrato, cioè ieri, l'FNSI, la Federazione Nazionale Stampa Italiana. Con loro, oltre a discutere dei grandi temi dell'informazione, sulla necessità di rivedere la rigorosità nell'assegnazione di eventuali contributi, oltre che la capacità di prendere il treno della digitalizzazione, che purtroppo questo Paese anni fa ha perso, abbiamo parlato della situazione dei giornalisti. Perché diciamolo, anche nel giornalismo oggi esiste un problema di precariato, esiste un problema di difficoltà da parte dei giovani precari di affacciarsi alla professione del giornalismo. Vengono sfruttati, sì, tanti. Vengono sfruttati, loro li hanno definiti i riders del giornalismo. Il Movimento 5 Stelle ha a cuore la tutela dei lavoratori, ha a cuore la tutela dei giovani e ha a cuore il superamento del precariato giovanile. Quindi anche nel giornalismo dobbiamo affrontarlo, per superare quelle forme atipiche come i Coco Pro, che ancora esistono, grazie al Jobs Act, nel mondo del giornalismo. Un giornalista deve svolgere il proprio lavoro con professionalità e la professionalità va riconosciuta e va riconosciuta anche con un lavoro stabile e remunerato in modo adeguato.